buongiorno cari amici delle api ci troviamo nell'apiario chiamiamolo montano 750 metri sul livello del mare appennino tra liguria e piemonte due arnie grande movimento oggi è il 13 di dicembre ci sono 12 gradi all'esterno come vedete nei giorni scorsi ha nevicato ma la situazione è decisamente migliorata il bel tempo c'è il sole ma soprattutto boh correnti calde venti meridionali comunque in buona sostanza non fa assolutamente freddo facciamo una veloce visita alle api per vedere che sia tutto ok abbiamo già visto che c'è un forte movimento davanti alle api alle arnie scusate eccoci qua api sulla neve ci sono circa 10 gradi e come vedete c'è un gran bel movimento davanti alle arnie pazzesco e voilà la situazione è questa la potete vedere c'è un grande dia vai un grande volo per essere in pieno inverno lo vedete siamo in mezzo alla neve quindi decisamente non siamo sul mare la situazione è questa gran movimento di api che entrano ed escono dall'alveare è anche vero che molte perdono la vita cadendo a terra e quindi rimanendo subito congelate soprattutto questa arnia direi che a questo fenomeno qua in corso però sembrerebbe mi metto magari dalla parte giusta ecco qua come vedete c'è un gran movimento perché per come non lo so direi che stanno facendo un volo di pulizia insomma stanno forse facendo i loro bisognini non lo so dicono che c'è anche questa possibilità comunque sicuramente c'è gran movimento poi se qualcuno ha da dare delle spiegazioni io sono un principiante lo dico subito mettete il vostro commento qua sotto se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale se volete dare consigli o anche diciamo così fare delle critiche lo spazio qua sotto è fatto apposta grazie mille la situazione pochi minuti dopo una mezz'oretta dopo è decisamente diversa le api sono tornate all'interno c'è pochissimo volo ovviamente le temperature si stanno abbassando e quindi ovviamente le api non volano più come potete vedere il abbiamo fatto una specie di cappotto 110 per cento non credo che me lo attribuiranno ma volevo fare un esperimento perché all'interno tutti i telaini sono pieni di riserva di scorta e quindi non riesco a stringere lo farò spero se ci sono buone giornate più avanti nella stagione ed eccoci la visita è terminata la temperatura come abbiamo potuto vedere è scesa velocemente con l'avanzare della giornata adesso sono intorno le tre e la temperatura è ora di 13 gradi qua intorno che è decisamente superiore alle medie locali perché come potete vedere siamo in mezzo alla neve per cui è chiaro che qua nei giorni scorsi ha fatto ben altro freddo ben altre temperature le api stanno rientrando all'interno delle delle arnie e abbiamo riserve di miele direi che a posto abbiamo comunque messo del candito che una delle due famiglie sta consumando molto più velocemente dell'altra e quindi dovremmo fare un po di attenzione per capire come mai questa cosa probabilmente semplicemente perché ci sono più api all'interno quindi c'è maggiore consumo comunque torneremo nei prossimi giorni per verificare che le cose stiano così ecco qua le api sono qua è un bel posto bel posto vedremo questa con la bella stagione se oltre ad essere un bel posto è anche produttivo se vi è piaciuto il video abbonatevi iscrivetevi al canale qua sotto se non vi è piaciuto lasciate comunque un commento un consiglio sono un principiante lo ricordo c'è scritto chiaramente sono un apicoltore della domenica non voglio insegnare niente a nessuno sto facendo un video diario racconto le mie esperienze non sono necessariamente il meglio da fare in apicoltura sto imparando e quindi anche attraverso i vostri consigli cerco un attimino di vedere che cosa è giusto fare per il bene delle api ok grazie a presto al prossimo video ciao